Oggi proviamo una tipologia di nascondino abbastanza strana, devo essere sincero sono un po' perplesso anche io Allora, praticamente siamo in una mappa tipo perfetta per scontrarsi con i fucili Ci sono Fere più 4 consolini nascosti armati con un fucile da cechino E io dovrò andare in giro a cercarli con la K Loro potranno spararmi col cechino, ma dato che è molto più scarso di una KM Dovranno gestirsi bene quando stare nascosti, quando provare a sparare E in qualche modo cercare di ammazzarmi Possono vincere in due modi, o ammazzandomi, oppure resistendo 5 minuti nascosti Ok Si chiamerà nascondino con i fucili Sì, un nascondino molto allegro, no? Beh, sì, sì Gioglioso Una roba Si condivide l'amore tra di noi, no? Quello che viene trovato si prende una fucilata in faccia, cosa vuoi che sia Mi piace, mi piace Allora, il cronometro è pronto Ok Io dovrò scrivere un via in chat, secondo me ci siamo, no? Vado? Sì, penso di sì Vado? Non so se gli altri si sono nascosti, ma sicuramente sì, dai Sto già nascondendo, via Ok Ok Allora, devo stare molto attento e soprattutto molto in movimento Ferre sappi che ti ho anche già vista Non è vero Beh, il tuo rosa Cavolo, mi sono girato Ma che cavolo? Sopra il ponte ho visto il tuo, la tua faccione rosa E ti ho visto Cambiamo a scondiglio Eh, ti conviene Allora, non ti ho sparato giusto perché se poi mi fermo a spararti è più facile per te Ma non è colpa mia, la mia skin in questa ambientazione è un po' un pugno in un occhio Oh cavolo Oh cavolo Ma che era, Steph? Io Ma la smetti? Ho trovato Duke Di fucilare le persone E come pensavo, avete visto, se un cechino si fa trovare troppo vicino finisce male La loro unica speranza è che mentre stanno nascosti mi vedono da lontano e riescono a hittarmi così a distanza Beh, certo È la loro unica chance Io ho anche visto dove sono, eh Se si fanno beccare altrimenti è un casino Sono tutti nello stesso punto Davvero? Sì Brutta idea secondo me Ecco secondo me, non so se raggiungerli per rendere il tutto un po' più divertente però Ho un po' paura di muovermi Non mi sembra una buona idea, devo essere sincero Vabbè, poi sicuramente quando ti vedranno avvicinarti si spostano, capito? Quindi non prenderla per buono Ah, ok, capisco, capisco Io devo continuare a stare in movimento però devo guardare anche un pochino dall'alto Io per ora non li vedo, mi sembrano ben nascosti sinceramente Mi sembrano ben nascosti Oh Steph Tutto ok Vabbè Vabbè Un babbe lo devo scrivere in chat Cioè non è possibile che questo umore dà solo nella lava Mi ero dimenticato che è una mappa anche con la lava, ok? E prendi danno dalla lava E prendi danno dalla lava Non me l'aspettavo Allora, ho un po' di problemi a scendere in questo momento Ok, sto bene Che male Allora, questo è Duke che appunto Natto ti ha preso? Cioè ti ha cecchinato in testa? Sì Eh, l'hai sentito? Ecco dov'erano L'hai sentita la cecchinata? Aia Vabbè, abbiamo vinto Abbiamo vinto Sì, erano sopra il ghiaccio, Steph Vabbè Vabbè Steph, non posso far cercare uno di loro Cioè sono un po' agguerriti Cioè non so che dirti Io non è che ho tanta voglia di farmi cecchinare in testa Eh, Fere, mi dispiace Non so bene che dirti Cioè ci sei rimasto male, no? È certo che ci sei rimasto male, cavolo Ok, quindi Adesso questo Perfetto E nascondiamoci E let's go Via, 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 via Tu vai e lì E aspetta e ti diamo il via per partire Vabbè, sto guardando un muro Quindi non c'è bisogno che vado in altre parti Non vi vedo, sono a posto Aspetto che vi nascondiate Ok Allora Io avrei paura al posto tuo Noi ma la sto facendo sotto, Steph Cioè quella cecchinata di Natto non mi è piaciuta per niente Niente a me Cioè tu stavi cercando tutto allegato Quello, boom Oh, ma c'è no Ma l'aspettavo neanche io Ci sono rimasta malissimo Allora Ma ti hanno preso da lontano, capisci? Lo so Quindi è una bella mira Ma non male che mi dici Oh, i cecchioni sono smirati Ok Vediamo se sono pronti Così ti do anche il via per partire Via Vai, Fere, vai, Fere, vai, Fere, vai, Fere Corre a salto Corre a salto Buona fortuna Basta, Nat ha eliminato, Steph Nat squalificato da questo gruppo Cioè totalmente Vai, riparti Porca miseria, Steph Ma che cavolo Cioè poi dove siete? Di nuovo sopra il ghiascio sulla torre, vero? Sono di nuovo lì? Non lo so Non lo so Perché allora Se mi hanno visto dalla base È un posto alto per forza Io vedo un solo consolino Che è nascosto lì Cioè lì In un posto Ok Ma Ma, 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 ma Ha missato e hai dato Nat No, Steph No, Steph Non fa sta roba Cioè è follia È troppo? È follia Cioè ma tu mi dici che cosa Vabbè, vabbè, Steph Cioè che devo fa, mo? Che devo fa? Gli occhi visti? Sono di nuovo sul ghiaccio Teoricamente hai perso Guarda, sto cercando anche di prenderli Eh, dovresti salire È velocissima È un casino, vero? Steph, però, sulla torre Cioè, non posso Ok Abbiamo trovato un problema Eh, esatto E io te l'ho detto Che è sempre stato un nascondino strambo, Fere È molto strambo sta roba Come ce la giochiamo? Quanto è un deathmatch? Basta Anzi, aspetta È un deathmatch Aspetta Eeeh Tutti col cechino Tutti 1v1 Una sola vita a testa Si spara al mio via Ok, ok Ok Ok, dai, è meglio No, è difficile Perché tu sei solo Comunque contro tante persone Quindi è tosta Però è divertente, dai Ok Io qualcuno un po' l'ho sparato, però Eh, vabbè Allora Ci siamo? Sì Pronti? Cioè, pronti Ho paura Eeeh, no Quindi aspettiamo Prost Ok, aspettiamo due secondi Adesso do il via Ce l'ho già carichissimo Mamma mia Bisogna nascondersi bene Bisogna nascondersi bene Mmm 3 2 1 Via C'è già qualcuno vicino a me Anche io Magari sei tu Oh cavolo Oh cavolo Cavolo Che ansia Ho qualcuno di fronte E qualcuno all'altro Uuuuh Mi ha tenato A me ha ucciso Duke Basta Steph Mi licenzio Basta Ok Allora Tu e Nat E siete morti Oh cavolo Cioè abbiamo preso dei consolini Cecchinato di provetti qua Steph Cioè non va bene Devono giocare male Capisci? Duke Versus Frost Allora stiamo a vedere È bello però l'1v1 così Mi è piaciuto Io avevo un Nat vicinissimo L'ho dovuto prendere in non scope Chi è che avevo Duke E infatti cercando di mirare Mi ha preso prima lui Perché era di fronte a me Ok Allora Vediamo chi vince Cavolo se mi ha preso in pieno Duke eh Cavolo se mi ha preso in pieno Ma anche a me Anche a me ha preso in pieno Allora io ho bisogno Un ottimo Sì era Duke che mi ha preso Sì Dalla skin Sì sì era lui Perché non vedo Nick in questo momento Cioè ma c'è entrato Adesso stanno resistendo però Eh sì Eh perché con pochi Secondo me è più difficile Beh no Ah Nat non mi aveva visto Pensavo che mi avessi visto Lo sai Ah beh Ecco perché l'ho ucciso Appunto Sono troppo a quei ritti Cavolo Tu gli dai Delle armi Con vinto che sia divertente Ma questi diventano Uh Chi ha sparato a chi Non è morto nessuno però Ah ah Ho notato Allora Sai che la faccio Vai a controllare Sì Light E ammazzata la Duke Duke ha tre kill In questo momento Vabbè Duke ha tre kill In questo momento Vieni con noi Povero Light ucciso E c'è Duke Versus Frost Duke Versus Frost Giusto? Eh mi sei Sì Ok 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 Frost mi sa che si sta Camperando malissimo Si è tipo super nascosto Che cavolo Vede? Non lo so Steph È una lotta all'ultimo sangue Ma io sto volando Non lo vedo Non lo so dove sono Non l'ho capito neanch'io Ok Uno è nel ghiaccio Però non devi farti vedere Ok Oh GG Ha vinto alla fine Quattro kill Ha ammazzato tutti Duke Va bene Allora Duke è il nuovo bersaglio Va bene Duke è il nuovo bersaglio Ora è via Oh cavolo Avevo qualcuno vicinissimo Tipo Light Eh ho visto Che stavo andando In quella zona Perché ho visto Dove sei Vincini Frost ha ucciso Night Nat Giusto? Mi sa di sì Vabbè GG Ah Uh Ah Ho visto uno L'ho andato E l'ho sparato E l'ho riusciso No cavolo Mi sono girato Non l'avevo visto C'è Light nascosto Sì Io stavo puntando a te Ma lui era nascosto E ha puntato a me Beh ma perché lo immagino Lui crede che sia sotto di me Sì Da qualche parte L'avevo già capito Perché Non si era allontanato Infatti io ho paura Perché adesso Non sono ben coperto Ah Lala Quanti siete morti? Tu? Nat? E basta? Mi sei sì Cavolo io sempre tra i primi Ma non è possibile Ci ho provato a sparare a te No Se mi siete usciti a vicenda Sì A vicenda Uffa Vabbè venite qua Venite qua Perché lo stavo mirando L'avevo visto Non è giusto Non è giusto Allora continuo a ricaricare Che bello Siamo morti in quattro Sì Ne rimangono due Uno contro uno Duke versus Light Di nuovo? Eh sì Ma non è possibile Evidentemente sopporti Non è possibile È incredibile Allora Duke è di nuovo nel ponte Comunque lui arriva sempre lì Sicuramente perché L'ha reputato come zona buona Ci sta No è una zona buona Il problema è che sei molto esposto lì Quindi Però Duke è sceso Duke è sceso Sta andando a cercare È risalito Che è un'altra torre Ok Dove sarà finito Light? Light è il mago del nascondino Ogni volta io non ho idea di dove sia Non anch'io Ogni volta non ho idea Vediamo se dall'alto lo vedo Ha rivinto Ha rivinto Ha rivinto E vabbè Vabbè E vabbè E vabbè In ogni caso ci fermiamo così Che non c'ho più voglia di farmi appallatonare Tutto il tempo Mi hanno massacrato Sieme a me che A fare Proprio Zero gloria per noi quest'oggi Speriamo comunque che il video vi sia piaciuto Era un piccolo esperimento Ma cercheremo di migliorare Infatti nei commenti Proponenteci un sacco di roba Che vorreste Che secondo me si può fare un sacco di roba figa Qua sotto Comparate in altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao